oh sticamo del noto un gioco già al thai Certo, l'amico e sesu estu cobrю a 4.000? Certo? Certo, certi s'iligno un'unmmm. Senfle a 6.000... Cyber ha le risponde twice a 3.000. Qu'è? Si, non si tu hai raggiunto, non ti senti che... ...i che sei che tu hai raggiunto? ...e' il nostro obiettivo è il nostro obiettivo. Ok, ok. Vi chiedi a tutti i due due domani. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Si, ti ho chiesto di fare i bambini, ti ho chiesto di fare i bambini, non mi ha fatto. Ma devi andare a fare i bambini, ma devi fare i bambini. Ok, ma cosa ti fa a fare i bambini? Cosa per te fare i bambini? Oh, tu mi ha chiesto di farlo con la città? Come andi, a me chi? A me chi? No, come andi a me qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.